Lo dice bene una ragazza appena maggiorenne che protegge la fiamma della fiaccola dal vento di mare. Mi dispiace sapere che ci sono persone comunque anche più piccole di me, ma comunque vicine a me di età, che non si rendono conto di quanto possa essere sbagliata una cosa del genere. Lo ribadisce il presidente della regione Gianni Gianni, indicando il Pegasolato sulla fascia. Noi non possiamo permettere che in questo paese la cultura della memoria si trova di fronte a vicende di questo genere. Noi dobbiamo attivare tutti i nostri anticorpi perché dobbiamo far sentire vicino il sentimento popolare a questo bambino, alla sua famiglia. La Toscana di oggi, l'Italia di oggi, sono nel giorno della memoria con loro per far sentire la nostra voce. Le offese, gli sputi e i calci non si possono cancellare, ma la reazione che la comunità di Vetturina ha dimostrato al giovane ragazzino assalito da due coetanei perché ebreo è stato un grande abbraccio collettivo a lui e a tutta la sua famiglia. Più di duemila teste con una voce sola, stampata a lettere colorate, sui cartelli che i suoi compagni di classe e dell'Istituto Carducci alzano orgogliosi al cielo. Siamo tutti uguali. Il parco della rimembranza si riempie in fretta. Le fiaccole vengono accese accanto alla grande lapide che ricorda le vittime della follia nazifascista. Per terra pietre d'inciampo che dettagliano l'orrore. Ricorrono i nomi di Marzabotto e Sant'Anna di Stazzema. Ma il ricurgito d'odio che ha riunito nel parco di Via Fellini i giovani e anziani da tutta la Valdicornia è molto più recente nel tempo. Appena pochi giorni fa due ragazze hanno vomitato offese antisemite, riferimenti ai campi di concentramento che hanno scavato solchi profondi nella coscienza di un bambino. E allora la risposta è tutta qui, ma non si ferma qui. E' insomma una enorme risposta da parte di tutta la Valdicornia. Oltre duemila le persone che sono arrivate qua al parco della rimembranza. E qui la notizia di un'ulteriore vicinanza delle istituzioni, perché la regione conferirà alla famiglia del ragazzo il Pegaso d'oro. Noi ci siamo messi al suo fianco e tutte le persone che sono qui questa sera si sono messe intorno a questo bambino a fare da scudo umano per proteggerlo da cose che nel 2022 non dovrebbero più esistere ma che invece esistono e che purtroppo aumentano. Soprattutto ragazzi della scuola che sono venuti qui ad essere loro il quadrato, a fare quadrato intorno a lui, a essere il suo scudo umano, a proteggerlo. Questa è una cosa bellissima.